Ciao, sono Davide Donati di Totem Stitch, faccio parte della Brigata Scala Locarno, siamo qui al campeggio estivo di Trun, siamo verso la fine del campeggio, quindi siamo verso lo smontaggio. Qua possiamo trovare la cucina, dove il Cuoco Chuck cucina tutti i pranzi. Lo scout deve coinvivere con la società e il miglior modo è facendo una buona azione. L'idea è che il foulard si faccia un nodo al collo, perché un buono scout farebbe una buona azione al giorno e come diceva la nonna, fa clown grow, a fine giornata andrebbe tolto il nodo e così essersi ricordato di aver fatto una buona azione. Siamo divisi in pattuglie e dormiamo in tende diverse per pattuglia. E poi là ci sono gli animatori. Sono un'animatrice, Silvia. Sono dal primo anno che faccio l'animatrice qui, gli altri anni ero un esplo. E beh, niente, è divertente essere un animatore al campo. Al mattino la giornata inizia con una mitica sveglia fatta da me e si fa ginnastica. Attività come giochi, poi ci sono anche le attività più grandi come i raid di pattuglia dove vanno via due giorni da soli, fanno un loro giro e dormono in tenda senza animatori. Gli animatori sono... è bello stare con gli animatori con un'età molto simile alla nostra perché ci capiscono magari. E sono anche... ci fanno ridere, ci fanno divertire, ci fanno... cioè si ambientano proprio con noi. Gli scout sono un gruppo creato da Baden Powell, che era un generale. Quando BP torna in Inghilterra vede tutti i giovani ragazzi che giocano a fare la guerra, ma BP non piace questa idea perché ha visto le atrocità della guerra, allora decide di fondare gli scout basato sul learning by doing, cioè imparare a vivere insieme in gruppo facendo delle cose anche assieme. Là ci sono i lavabi dove a turni in pattuglia veniamo a lavare le gamelle. Quelle lì sono le docce che facciamo ogni giorno circa alle 6. Ci spostiamo nel posto dove dormiamo. Praticamente ogni tenda è per ogni pattuglia. Questa qua, alla sinistra, si chiama Wolfing. Poi quella a destra, la prima, Folkung. Quella dietro, Morkung. E quella a sinistra, dove dormo io, Wolf King. La maggior parte dei giochi sono stati vinti dalla nostra pattuglia, cioè Morkung, e l'altra maschile forte, cioè Wolf King. Quest'anno la brigata Scalocarno compie 100 anni di scoutismo, cioè 100 anni che esistiamo in Ticino. Ci passeranno varie attività, come per esempio le 100 ore di settembre. Saranno 100 ore nella piazza di Locarno, in cui verrà montato un labirinto, dove le varie associazioni potranno mettere il loro insegna. Sì, era bello come campeggio, un po' peccato, però ci sarà anche l'anno prossimo.